Oggi prepariamo il pane di D'A. Cominciamo! Inserisco nel boccale l'esulbero di lievito madre, con lo spezzetto, e l'acqua. Ho inserito la lama adatta all'impasto, che mi consentirà ovviamente di impastare, e lascio andare a velocità 3 per un minuto. In questo modo io ho fatto ammorbidire il lievito che si è cominciato a sciogliere. Aggiungo adesso la farina, che deve essere lo stesso peso dell'esulbero di pasta madre. Non avvio il programma impasto, ma vado ancora io, la mia scelta, e faccio sempre a velocità 3 per due minuti e mezzo, in modo tale che cominci ad amalgamare l'impasto. interrompo a metà, assaggio creando la palla, e aggiungo il sale. e riparti. Vai, Nico! Ultimo passaggio. velocità 6 per due minuti, e il panetto è pronto. Come vedi, si è creata la palla, lascio impastare il resto del tempo, un minuto scarso, e poi si fa lievitare. Questo è il panetto pronto. Adesso lo coprerò con della pellicola, e lascerò lievitare per almeno 3 ore. Ok, sono passate diverse ore, come vedi non lievita tanto, ma era normale che fosse così. Prendo l'impasto e lo divido in 4 parti uguali, puoi fare anche più parti, e fare delle pite più piccole, vabbè, non faccio una prova, ma l'avrei diviso in quattro. Do un'impastatina, e devo creare delle palline. Dalla pallina, ovviamente devo stendere. È come se volessi creare una piadina, praticamente. Ok, ne ho sete 5 invece che 4, ho fatto 3 più piccoline, e 2 leggermente più grandi. Dopo averle stese con il mattarello e le fatte, parli con me, rotonde, le lascio ripostare una mezz'oretta per averle ancora più soffici, dopo che si cuociono. Nella padella ben calda e leggermente sporca di olio, ho messo la prima pita e la copro con un coperchio. In questo modo la cottura viene leggermente più uniforme, non è un pane che gonfia tanto, però è un pane molto gustoso, è abbastanza leggero se ci pensi. In questo modo, cuocendo 2 minuti per lato, saranno perfette e cotte in modo omogeneo. Quando girarle? Osserva, con il coperchio si creano le bolle che altrimenti non si creerebbero, ed è pronta per essere girate. Guarda, è come se fosse una piadina, vedi, deve venire così bruciacchiata. E rimetto il coperchio. Il principio è lo stesso, sono passati un paio di minuti. Il pane pita è pronto, buonissimo, facilissimo, velocissimo. Puoi mangiarli un po' come ti pare. Noi per esempio questa sera lo accompagniamo con degli straccetti di pollo e insalata e li farceremo. Gli straccetti di pollo sono molto semplici da fare, sono una ricetta molto simile agli straccetti di vitello che ti ho mostrato diversi video fa. Trovi il link nel box info. Spero che questa video ricetta ti sia piaciuta e il pane tuta è il top. Ciao! Ciao!